Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusate, ma questo che treno è? Questo qua? Questo qua è un treno antico. Questo qua è un treno che si fitta. Ah, questo si fitta proprio. È privato, quindi... Ok. Quindi questo è un treno privato che si può fittare. Invece quello lì è un treno antico. È un treno. No.